Siamo al puff e fra qualche minuto arriva Peter Lord. Chi è Peter Lord? È una parte della vostra infanzia. Ora lo scopriremo. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. E... Esplicitati. Chi è? Sì. Guarda, guarda, guarda il mio piede. Sì, quindi sono il co-founder di Hard Man. Siamo facendo animati film in the U.K. E le famosi che tutti conoscono sono Wallis and Gromit e Sean the Sheet. Sì. 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 Questo è intanto animatico. Nele per davidice- Come and me and my friend, and my presenti, and my new pal sarendto David, David, ha già fatto animare, per fun. E' un'esperienza. E' un'esperienza. E quando ti faccio un'animazione, ti prendi un'escrizione, ti prendi un'escrizione, e ti prendi un'escrizione. E' un'esperienza fantastico. Quindi, lo consiglio a tutti. Quando io ero 16, io ero un hobby. E ora, è diventata una carriera. E ora... ero due persone, mi e David. E ora il gruppo di circa 500 persone. E cosa stai? E' un lavoro in Bristol. in l'estero dell'Inghilteria e con colore con colore con colore e ti piace il litano? mi piace il litano mi piace il litano mi piace la pioggia la fonte mi piace la freda e ho sempre ho vinto diversi parts ho vinto il polonone il festival ma ho vinto l'Inghilteria 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 il polonone è molto poco ma è buon sito buon sito buon sito buon sito la domanda è se vuoi dare aiutare a tre persone che vogliono creare e inventare un lavoro cosa direi io direi è molto possibile perché magari a volte non è possibile non è possibile ma nel mondo all'Inghilteria cartone animazioni games ci sono molti è una grande industria e c'è tempo per qualcosa c'è tempo c'è tempo per qualcosa con un'idea io direi ok questa è la inspirazione magari la parte è bisogna praticare la cosa che hai fatto e lavorare e le persone apprezzano e la stia attraverso l'indicazione stia che la stia perfetto ok ho finito già ho finito sì 23 little sketch not and a big art but sketch okay it's okay it's okay okay and but thank you very much for Bob Grazie Grazie Guarda me e i miei pelle Mi e i miei pelle Sono un pelle Il mio pelle Che è molto bello Pelle e pelle È bello Grazie Perfetto